Ciao ragazzi e bentornati su questo nuovo video che ce la porta e ragazzi questo video davvero quel videolino abbiamo raggiunto il mi piace però sui 4 mi piace nella spallata ragazzi siamo rimasti qui dicendo perché io stavo giocando e non stavo un pochino registrando e mi stavo stoppando la registrazione quindi ho fatto un po' di casino beh guardate 26% di cura e non va bene per niente ragazzi guardate 26 per cento di cura ragazzi non va bene mia perché 26 per cento di cura vomito cos'è mio vomito no anche no quello della cura devo farlo scopriarsi che sono come la cura 3 3 7 for bubble box pop up ragazzi davvero stiamo malando un sacchino un casino e poi guardate quanti morti guardate quanti stanno morendo tutti all'ospedale no ragazzi davvero quindi grazie ok Il presidente è chi è ammalato, quindi va Si conquistiamo tutto il mondo, ragazzi, se vinciamo di sicuro Allora di salzare Gli abbiamo diventati, li abbiamo fatti diventati scemi Scusi Davvero, dai, sono tosseando, vomitando Ah, così mi non sta in resistenza al calore, prima il freddo, ora la malattia Ora prima il freddo e ora il calore Ragazzi, guardate però cosa abbiamo fatto Ragazzi, abbiamo ammalato tutto il mondo Ma guarda quanti morti, cioè Più morti che feriti Che infetti, cazzo Davvero Tu mori Madonna Madonna Ciao Scusi La mia Ciao Una Scusi 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 andiamo a guardare 4 anni noi stiamo ammazzando più persone che infetti guarda, 6 milioni di persone morte ops, combo sintomi stranuti e diarrea causano incidenti indesiderati abbassando la produttività e attirando l'attenzione su cancro vampi Russia brucia i cadaveri bastardi sudafrica brucia i cadaveri ancora Iraq, il governo è caduto madonna su l'attenzione su cancro l'attenzione su cancro ancora il governo è caduto madonna ragazzi, ammazziamo tutti guarda cosa abbiamo fatto nel mondo 94% di morte guarda quanti sono morti non metti la cura ma non ce la fate guarda 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 ho zero infettati che sono morti tutti i russi perché sono tutti morti guarda no guarda la malattia cancro vampi le salità la gravità effettività un fottio davvero ragazzi che spettacolo di gioco questo è il secondo episodio di mochi dicendo che abbiamo finito mi so io devo dichiarare la legge marziale cosa ho attivato? aria che risoffo che dare ok 44 ma guarda il 98% di morti quanti morti che ventana 100% di morti vuol dire che zero infatti sono tutti morti due morti zero stiamo facendo il caos in italia non parliamone tutti morti marocco istituisce i centri di primo soccorso ormai non è solo debuta infetta la cura animale è sempre la solita no 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 abbiamo distrutto il mondo non si sente nemmeno le bambine che cantano gridano tossiscono la gente perché sono tutti morti due morti 7 miliardi tipo quanti quanti morti ragazzi quanti morti ho no qui la curavano ormai cosa c'è da curare sono tutti morti poi c'è anche un video finale del gioco mi sa c'è anche un video finale che parla com'è andata questa malattia com'è mi sa che c'è appunto che l'ho sentito di qui 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 è l'ho 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 Siamo in 2019 Ma guardatela Ma guardatela No guardatela Noi si facciamo questa Cura non le fa niente 46% di cura Quanti infetti Sono tutti morti Non c'è Infatti non c'è nessuno Perché sono tutti morti Beh ragazzi Questa seconda parte Può finire qui E Se arriviamo a 4 mi piace Come l'altra volta Terza parte Ciao